Proviamo. Lele, appena finito lo show di Marco Montemagno, codice internet, quali sono le tue impressioni a caldo? Allora, lo show è stato lungo, è stato interessante perché ha usato un tono molto alla portata di tutti, troppo lungo, no Marco, troppo lungo, eravamo stanchi, stanchi, stanchi e mi è piaciuto un casino quando ho giocato più in poco, veramente bellissimo, è così, vale, è felice. Avete, avete un po' interessanti che, ovviamente, non voglio dire riflettere, magari approfondendo un po' di più le film, anche se, insomma, ho fatto una cosa un po' generalista, un po' più specifici. Quali sono per voi le opportunità principali che avete sfruttato della rete, singolarmente? Le opportunità principali? Come vi ha cambiato la vita, fondamentalmente? Sì, è che un mio amico, che è anche suo amico, ha fatto conoscere la Vale. Ah, perciò è rientrata nella categoria delle coppie conosciute online, quasi, quasi. Sì, quasi, quasi, diciamo, interconnessi. È vero che la rete è fatta di amici, io più che di persone dico di amici. E tu? Il shopping online. Grazie. Grazie. Grazie.